buongiorno sono martina craniolini e ti do il benvenuto all'interno del gruppo pittini sono qui per farti conoscere più da vicino come viene prodotto e lavorato l'acciaio all'interno dei nostri stabilimenti 1800 collaboratori 18 stabilimenti produttivi 60 paesi serviti al mondo questi sono i numeri che fanno del nostro gruppo un'importante realtà siderurgica orientata ad una costante crescita guidata da investimenti ad alto contenuto tecnologico dall'innovazione di prodotto e da un'attenta politica di sostenibilità ambientale leader in italia è uno dei principali player europei nel campo della produzione degli acciai lunghi destinati all'edilizia e all'industria meccanica basati da sempre sul concetto di economia circolare produciamo oltre 3 milioni di tonnellate di acciaio ogni anno partendo da rottami ferrosi valorizzando e riciclando i residui della produzione copriamo infatti l'intero ciclo produttivo dalla materia prima fino al prodotto finito con le produzioni di billette tondi laminati per cemento armato in barre ed in rotoli e vergella la vergella viene ulteriormente trasformata in prodotti elettrosaldati per l'edilizia come la rete il traliccio o in laminati e trafilati destinati all'industria meccanica e alla produzione di fili per saldatura l'esperienza e la conoscenza di ogni singolo processo produttivo all'interno dell'intera filiera di produzione dell'acciaio rappresentano un indiscusso punto di forza del sistema pittini garanzia di qualità del prodotto finito e di affidabilità per i nostri clienti iniziamo la visita degli stabilimenti andando a vedere proprio dove nasce l'acciaio all'interno del forno elettrico EAF electric arc furnace la tecnologia più sostenibile e rispettosa dell'ambiente per questo tipo di produzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti